Oggi presentiamo un nuovo progetto Stop Your Car and Move Your Feet. Presentiamo un progetto che dal punto di vista economico non è estremamente onoroso, ma che dal punto di vista culturale e comunicativo è estremamente importante per il messaggio che vuole dare. Specialmente vogliamo dare nuova visibilità e nuova funzionalità al nostro multipiano in un messaggio di maggiore mobilità sostenibile e attenzione all'ambiente e alla qualità della vita della propria città. In collaborazione con l'amministrazione comunale che ci sta dando una grandissima mano consentendoci determinati investimenti e dandoci determinati indirizzi e in collaborazione con ASMSET che è la nostra partecipata e che è il braccio energetico di questa città e che deve essere assolutamente valorizzata. Non per questo siamo qua assieme e nella coerenza di questa proposta abbiamo presentato sul nostro sito e verrà presentato su altri siti artistici una proposta assieme a Wallaby per ritrovare l'artista che meglio possa portarci a far comunicare questo messaggio specialmente verso i giovani sul nostro multipiano che dovrebbe ringiovanire e dare un messaggio per il futuro un messaggio ottimistico verso una sostenibilità. Il murale verrà realizzato con colori Mangia Smog anche grazie a una nanotecnologia ideata proprio a Rovigo che consente il mantenimento della pittura per cui solo quel murale vale 50 alberi di alto fusto. Questo per la produzione di ossigeno e per lo smog che mangerà. Il tutto in un quadro di investimenti che devono portare di circa 200 mila euro che vogliamo fare sul multipiano che coerentemente con questo vertiranno su una produzione di fotovoltaico in autoconsumo e sulla proposta di alcuni posti auto esclusivi per auto elettriche. Questo per sempre più attirare l'attenzione a una migliore produzione di polveri sottili e a una migliore qualità dell'aria e a una promozione della qualità della nostra città che già al suo ingresso pone qualcosa di bello. Uolabi è stata incaricata da SM per riqualificare parte del multipiano della città attraverso il linguaggio della street art. Realizzeremo 500 metri quadri circa di murale al fine di rendere più attrattivo uno degli ingressi alla città. Abbiamo convenuto fosse importante aprire un bando, una call for artist per selezionare l'artista in modo di dare l'opportunità anche ai giovani emergenti che magari hanno meno spazio di poter presentare il loro progetto che poi verrà subito alla chiusura del bando selezionato ovviamente dai partner del progetto quindi SM Seta, SM Spa e Uolabi. Ovviamente sceglieremo l'opera più in linea con la location e col messaggio che vogliamo veicoli. Siamo a sostegno dell'ecosostenibilità, il naming e il concept di progetto Stop Your Car, Move Your Fit vuole essere un invito a lasciare la propria auto e vivere la città a piedi e promuovere così un messaggio a favore dell'ambiente e della mobilità sostenibile. Ci rivolgiamo soprattutto con questo naming abbastanza in inglese giovane volgiamo la nostra attenzione soprattutto alle nuove generazioni perché sappiamo essere loro importanti nel plasmare la città che adesso ci appartiene in parte ma parterà soprattutto a loro nel futuro. L'opera per essere sempre in linea con questa veste green sarà rivestita da una nanotecnologia come hanno già ripetuto i partner di progetto e NanoSilve la offrirà in partnership proprio per sostenere la città in questo cambiamento che speriamo insomma sia un inizio, una partenza e possa portare anche ad altre iniziative. Siamo stati molto felici di questa proposta che ci è arrivata dalla SPA perché dal nostro socio SM SPA perché Wallaby è nel nostro cuore Wallaby è una manifestazione che già l'anno scorso ci ha entusiasmati e quindi immediatamente ci siamo messi in contatto con Federica Sansoni per capire se c'era uno spazio per noi perché il messaggio è importante il messaggio poi è stato veicolato nella maniera più giusta, più originale quindi davvero ci tenevamo ad esserci. Abbiamo cominciato a parlare con Federica di questa possibilità e poi è arrivata anche la proposta della SPA di essere partner come è la nostra vocazione naturale, partner energetico in questa rivitalizzazione, possiamo chiamarla così, del multipiano in questa operazione di svecchiamento se vogliamo anche della struttura che comunque ha una certa età però viene rivitalizzata e rivalorizzata da questa bellissima iniziativa di street art quindi il nostro ruolo è assolutamente marginale cioè noi forniamo le colonnine elettriche ma lo prendiamo anche, l'abbiamo preso come uno stimolo a dare un'accelerata a quello che era già il nostro progetto cioè di portare la mobilità elettrica, di spingere la mobilità elettrica in città anche attraverso il posizionamento di una serie di colonnine e stiamo appunto portando avanti questa interlocuzione con il comune per trovare i posti migliori, i luoghi migliori e procedere in questo senso con questa nostra nuova veste che rientra comunque in quella che deve essere la logica della nostra funzione cioè SM7 vende gas ed energia l'energia oggi deve essere un'energia pulita deve essere un'energia che consente comunque di salvaguardare il pianeta e su questo ovviamente si apre un mondo perché conosciamo tutti l'importanza e la necessità di un cambio di abitudini ecco vorremmo accompagnare la nostra città in questo cambio di abitudini con una parte attiva grazie grazie a voi